Ho perso il mio miglior amico e se non è chiedere troppo, chiedo un segno. E' quello. E' quella la risposta. Ciao, sono Emma Muscat e questo è il mio language test. Prima di iniziare questo test vorrei raccontarvi qualcosa del mio brano. I am what I am è una canzone che parla dell'amore verso se stessi, è un inno per tutti noi e le nostre difette ci rendono unici e ci rendono differenti pure. E quindi amatevi sempre perché siamo perfetti così. Allora, iniziamo. Chanel, sono uomo. Io ho sempre tuoi ready per romper cadera, romper corazones. Le opzioni sono sono sempre pronta a rompere i fianchi, a rompere i cuori. Sono sempre pronta a romperti il cuore, mio dolce amore. Non voglio rompersi il cuore, ma il mondo è ingiusto. E la risposta giusta sarebbe la prima. Sono sempre pronta a rompere i fianchi, a rompere i cuori. Artist sistur. Song, non so come pronunciarlo, però meo ha candi sol. La strofa sarebbe Allora, lo vediamo. L'inverno più buio aspetta la primavera per scaldare di nuovo i nostri abbracci. L'Islanda è un bellissimo posto, venite a visitarlo. L'inverno non riuscirà a gelare il nostro amore. Io dico che l'inverno non riuscirà a gelare il nostro amore. È sbagliata? È la prima? L'inverno più buio aspetta la primavera per scaldare di nuovo i nostri abbracci. In realtà è più poetico, però non capivo nulla. Quindi ho indovinato. Il test è finito, quindi andate ad ascoltare la mia canzone I am what I am su T-Music. Beco, forse è nice. Ok, non ho capito niente, forse.